La prerogativa era propria del Re nello Statuto Albertino, non del Presidente della Repubblica Il quale a suo giudice ha rotto la corda quindi Non c'è dubbio, e dico anche perché, perché il motivo per il quale non ha acceduto alla richiesta è stato un motivo politico, non un motivo di ordine istituzionale